Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Come vedete voglio parlarvi di una carta in particolare Ma proprio così, proprio un video molto soft Prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale Vi passate in social e a descrizione prima delle sempre aggiornate col mondo yuki Grazie mille! Allora, perché voglio parlarvi di questa carta? Del Junk Break, dello Spezza Rottale Perché? Allora, io delle volte utilizzo Delle specie di starter deck, tra molte virgolette, fatti da me E ultimamente stavo utilizzando un Die Grafer Un Die Grafer con lì, vabbè, capito, lo saccheggiatore, Goblinberg Qualche Extender, Caruccio e qualche carta messa Lì ovviamente, solo per giocare, per divertimento E mi diverto ovviamente E poi ci ho messo il Junk Breaker Il Junk Breaker fa praticamente la Dark Ruler No More, incredibilmente E cosa dice? Già l'avete letto però Cosa dice? Durante la Mine Face Questa carta è evocata tramite evocazione normale La possiamo tributare e nega gli effetti di tutti i mostri scoperti sul terreno Finito alla fine del turno E sì, vabbè, ovviamente E ma si può negare, ovviamente Molto spesso mi è capitato di fare combo Questo calice proibito per negare la risposta di Totmostry Ovviamente quando l'oppo non c'ha la burda da 44 negate Si può fare E in quel caso, delle volte, mi è capitato anche di ribaltarla Perché alla fine non calavo niente che Un po' di effetto Ma calavo roba con tanto di attacco Un po' tipo il berserkone Che comunque ti spacca la roba Che ha 3.000 Magari andavo di buonero per sfasciare tutto E via lì Poi si riprende E questo è Cioè, perché parlo del Junk Breaker? Perché non lo so Potrebbe essere una soluzione molto particolare Ovviamente il fatto che possa essere negabile Ehm... Sì, è un po' Meh, come cosa Però comunque rimane il fatto Che è una di quelle carte che è tipo 20 centesimi Non lo so Ce n'ho a pacchi Non so quanto costa Credo che costi poco Che è anche facilmente trovabile Che praticamente basta che te lo tributi Quando viene magari normale E fa da un mini Dark Ruler Romor Brutto che lo fa anche sul tuo terreno Però comunque Cioè, quando lo fai Vuol dire che è più deleterio per l'avversario Che per noi Quindi È un'ottima soluzione Ogni tanto ci stanno queste carte così completamente random Che mi piacciono Che mi piace Che condividere con voi Metti caso che possano Ritornare utili Ogni tanto mi è servita Quindi Perché no? Informatizziamo le persone No? Ci sta Poi vabbè Ovviamente magari ci saranno Persone che lo conoscono Persone che ovviamente diranno Che è inutile Vabbè ci sta Perché è una soluzione Ehm... Molto Molto particolare Cioè non è una di quelle main card stable Che metti perché Metti perché sì Però vabbè Insomma Fa da un Negate totale Secondo me ci sta come card Detto questo Fatemi sapere voi cosa pensate Se magari volete altri video con Carte un po' particolari Perché tanto quando faccio dei mazzi Meme Siamo un po' meme Roba di questo genere L'avevo da cercare Ce la infilo Quindi Infatti con il Dagger Faccio qualche cartina Qualche negate Di mostri che vengono specialati Qualche cosa di caruccio ci sta Per giocare così Tanto per divertirsi Detto questo appunto Fatemi sapere voi cosa pensate Noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti